Inizia oggi la raccolta fondi del Museo dei Cinque Sensi di Sciacca per il progetto denominato Infopoint Diffuso, selezionato nel bando ripartenze inclusive della Fondazione Comunitaria di Agrigento e Trapani. La Fondazione ha creduto nell'impatto dell'iniziativa del Museo dei Cinque Sensi e pertanto finanzierà una parte del valore del progetto con un contributo pari al 70%. Per la restante parte, quindi affinché l'iniziativa si realizzi, il Museo Diffuso chiede il supporto di tutti. L'obiettivo della raccolta fondi promossa su For Funding è quello di raccogliere 3.000 euro che permetteranno di realizzare l'Infopoint Diffuso. L'importo servirà inoltre per l'acquisto di dispositivi di traduzione simultanea dotati di visore per i contenuti in lease. Sciacca vuole diventare una destinazione turistica accogliente dove la bellezza che ci circonda sia generatrice di un'economia sana. Per un'accoglienza ottimale, evidenzia il Museo Diffuso dei Cinque Sensi, i bar e i negozi si trasformeranno in Infopoint sempre aperti e totalmente inclusivi. Le informazioni saranno date in tutte le lingue del mondo grazie ai traduttori simultanei. Ci sarà un orario di apertura ampissimo perché si inizierà la mattina con il bar e per chiudere poi a notte tarda con il pub in luoghi distribuiti nel centro storico. Verranno fornite idee, risposte e proposte di esperienze itinerari. Il progetto prevede l'allestimento iniziale di 10 Infopoint, tutti dotati di un traduttore simultaneo multilingua, di una serie di audioguide georeferenziate e una mappa in Braille per scoprire il territorio, la sua potenza narrativa, la sua memoria, identità, bellezza senza alcuna barriera linguistica o sensoriale.